Musica Covid, contagi al 13%, multe e arresti a Napoli, meno tamponi ma risalgono i contagi, indice di positività al 13%, scoperta una discoteca in un appartamento di Napoli, 41 multe e 2 arresti, niente fuienti. Via la Madonna dell'Arco. De Magistris, i cittadini rispettosi delle regole, il sindaco di Napoli tracciò un bilancio dei controlli per le feste, la blindatura a Pasqua era inevitabile per la situazione dei contagi, ha detto il primo cittadino che ha fatto i complimenti ai napoletani rispettati i divieti. Crisi Covid, commercianti in piazza con le croci, al via una settimana di proteste, domani i negozianti alzeranno le saracinesche, mercoledì a Napoli, confesercenti, porterà in piazza 15 croci, una per ogni settore in crisi e consegnerà le licenze a Mattarella. Benevento muore 24enne, la verità dall'autopsia, disposti gli esami autoptici per il giovane trovato senza vita questa mattina alla base di una scala di emergenza di un palazzo nel centro cittadino, non escluso che il 24enne possa essere caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Allarme Covid, i sindaci chiudono le scuole, in Irpinia non si abbassa la guardia contro il virus, ancora troppi contagi, i primi cittadini dei comuni più a rischio decidono di non riaprire le scuole. Tragico il bilancio di Pasqua con sei decessi. Salerno, pasti ai poveri, ordine dei medici in campo, 400 pasti alle famiglie in difficoltà e l'iniziativa dei medici di Salerno, un progetto importante in un periodo di crisi, precise il presidente dell'ordine d'Angelo, coinvolti gli studenti dell'istituto alberghiero virtuoso. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura la Pasquetta, migliaia le persone che quest'anno hanno dovuto rinunciare alla gita fuori porta a Napoli, lungomare, centro storico blindati dalle forze dell'ordine. Non sono mancate le sanzioni, la polizia ha anche fermato un party in casa con 40 giovani multati. Sentiamo i dettagli. Polizia, carabinieri, guarda di finanza, con militari e vigili urbani hanno presidiato le strade solitamente affollate di Napoli. Nel giorno di Pasquetta, Napoli si è presentata così, poca gente in strada, ma tante forze dell'ordine per evitare assembramenti. Raffica di sanzioni in due giorni, 309 finora il bilancio dei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri le multe sono state 203, 105 nella città di Napoli, 50 nell'area sud e 48 nell'area nord della provincia partenopea. Il bilancio dei controlli dell'Unione di Nalbis, seguiti anche con il contributo del nucleo carabinieri e ligotteristi, è di 106 sanzioni, di cui 40 nella città di Napoli. E questa notte gli agenti del commissariato, Vicaria Mercato ed Ecumani, sono intervenuti in corso Umberto I per una segnalazione di schiamazze e musica ad alto volume provenienti da un'abitazione. I poliziotti giunti sul posto sono entrati nell'appartamento, dove hanno sorpreso numerose decine di giovani intenti a ballare senza mascherina. Una parte di essi si è allontanata, mentre altri 41 sono stati identificati e sanzionati. In questi giorni la fede non è mancata. I fuienti hanno capito anche quest'anno che la privazione del pellegrinaggio in presenza è necessaria per farci tornare quanto prima ad una vita normale, la resurrezione dopo la passione. Lo ha detto il priore del santuario della Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia, padre Alessio Romano, che per il secondo anno consecutivo ha celebrato le messe del lunedì in Albis senza la presenza del popolo. E intanto la regione Campania ha reso noto i dati relativi all'emergenza. Meno tamponi effettuati, ma aumenta il tasso di incidenza. Nelle ultime 24 ore sono 929 i casi positivi su 6.688 tamponi esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari all'11,07%, oggi invece è al 13,89%. A Salerno task force per evitare assembramenti dal centro alla zona orientale, sulle spiagge schierati carabinieri, polizia e municipale. Il sindaco Napoli festa sicura, orgoglioso dei miei concittadini, ma finisce in dramma un barbecue a San Cipriano Picentino, gravemente ustionato un uomo. Sentiamo Sara Botte. Salerno presidiata per la seconda Pasquetta in zona rossa, tante le persone a passeggio, complice il bel tempo, ma è imponente lo spiegamento di forze dell'ordine sul territorio. Controllate e avvista anche le spiagge. Sono stati attrezzati dei presidi, dei controlli che si stanno svolgendo a Piazza della Concordia, ma in qualche modo la zona orientale delle nuove spiagge, che proprio nei giorni scorsi sono stato oggetto di grande interesse, chiaramente vediamo un po' di persone per strada, ma fondamentalmente i grossi punti di aggregazione, sinceramente non registriamo grandi problemi. E il sindaco di Salerno sulla sua pagina Facebook si complimenta con i suoi concittadini per aver rispettato le regole e vissuto una Pasquetta sicura. Dobbiamo, come dire, attenerci a determinate direttive, speriamo in tempi migliori. Molto contenti che rispetto all'anno scorso, quantomeno oltre ad affacciarci sul balcone, possiamo uscire. È triste perché ormai, al di là di quello che si fa e non si fa, è avere gli amici, le persone, gli affetti, non incontrarli. Persone che stanno soffrendo, perché chiunque tra amicizie e persone in comune hanno qualcosa che purtroppo ha portato via o che stanno soffrendo. Bisogna raggirare l'ostacolo. Intanto in costiera amalfitana, Cetara, multate tre persone beccate in spiaggia. Sull'arenile anche una coppia proveniente dalla provincia di Siena. Mentre finisce in dramma la Pasquetta San Cipriano-Picentino, dove un uomo si è gravemente ferito mentre preparava un barbecue. È stato elitrasportato d'urgenza al reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Ed è stata una Pasquetta all'insegna dei controlli anche a Benevento, sia in centro che nei pressi dei principali varchi di accesso alla città. In Matti Disco. Volanti lungo il centralissimo Corso Garibaldi e posti di blocco delle Forze dell'Ordine in provincia, nei pressi dei principali varchi d'accesso della città, sin dalle prime ore del mattino, è stata una Pasquetta all'insegna dei controlli anche a Benevento per verificare da parte di tutti il rispetto delle regole e delle misure anti-covid previste anche in questa fase dell'emergenza. In campo anche la Polizia Municipale, con diverse pattuglie impegnate in particolar modo per monitorare gli ingressi in città. Stiamo effettuando i controlli con le altre forze di Polizia, con il coordinamento che c'è stato alla Questura. Ci siamo divisi perché c'è personale all'interno della città. Noi ci stiamo dedicando invece alle verifiche dei veicoli che entrano o escono da fuori in Benevento per capire se sono tutti perfettamente a regola. Ma in mattinato c'è stato anche chi si è recato presso i centri vaccinali attivati dall'ASL per la campagna di immunizzazione proseguita anche oggi. Noi abbiamo, o ne abbiamo visti molti, ancora persone che vanno a vaccinarsi, per cui anche quelli provenienti da fuori devono raggiungere le zone dove si devono vaccinare, che è la caserma Pevicelli. E di molti infatti si sono detti pronti a trascorrere in casa anche questo giorno di festa ancora in zona rossa. Come trascorrerà questa Pasquetta? Purtroppo qua. A casa mia. Eh, in casa. Sperando che vengono i tempi meglio. A casa. Siamo a casa. Rispettiamo le regole come è giusto che sia. Ci sono persone che stanno soffrendo, quindi riteniamo giusto adeguarci a questa situazione. In Irpinia presidiati gli svincoli autostradali, il raccordo Avellino-Salerno e Lofantina, la gente ha ripiegato su una passeggiata lungo il corso del capoluogo. Vediamo. Strade deserte, ma corso di Avellino affollatissimo, specie in mattinata complice alla bella giornata in Irpinia. Automobilisti tutto sommato rispettosi delle regole. Chi si è spostato in questa Pasquetta in Rosso lo ha fatto solo nei limiti delle deroghe consentite. Niente gite, scampagnati o picnic, in compenso posti di blocco dei carabinieri ai caselli autostradali e controlli sugli spostamenti da e per il Salernitano con le pattuglie della Polstrada ai ordini del dirigente Alfredo Petriccione posizionate allo svincolo di Solofra e quelle della Polizia di Stato all'imbocco del raccordo ad Atripalda. Regolare la situazione anche a Serino porta ad accesso per i boschi del Terminio, dove a controllare il territorio c'erano anche la protezione civile e gli uomini dell'antincendio boschivo. Tranquille, oggi è stato un giorno particolare, comunque stanno rispettando tutte le regole. E allora non è restato che accontentarsi di una passeggiata, a piedi o in bici, lungo corso Vittorio Emanuele. Giusto una passeggiata al corso per salutare un po' di amici. Almeno la passeggiata per il corso è ovviamo così. Si mangia e si passeggia, nient'altro. Speriamo il prossimo anno sia migliore. Ce lo siamo augurati lo scorso anno, ce lo auguriamo di nuovo. Nel weekend di Pasqua sono state sottoposte a controllo 2872 persone, 35 delle quali sono state sanzionate e una denunciata. 655 invece agli esercizi commerciali passati al setaccio, una multa e nessuna denuncia. A Napoli il sindaco De Magistris fa i complimenti ai suoi concittadini, hanno rispettato le regole sulle braciate e dice non me la sento di vietarle. Vediamo. Città blindata, più di 300 sanzioni in 24 ore, eppure il bilancio di queste festività pasquali per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è positivo. Tanto che dagli schermi di La Sette l'ex PM ha voluto fare i complimenti ai suoi concittadini, ma non ha mancato di sottolineare la grande difficoltà sociale ed economica in cui è sprofondata la città. Sono uscito sia ieri che oggi per la mia città e devo fare i complimenti ai napoletani, perché la gran parte delle persone ha rispettato completamente le regole dopo un anno di fame, di dura fatica, di aspetti psicologici che ormai rischiano di franare. Devo dire la verità, l'immagine che è veramente un po' mortifica, che in questi mesi si doveva organizzare assolutamente meglio l'approvvigionamento dei vaccini da parte dell'Europa e l'organizzazione dell'Italia nei vaccini tra le regioni e tra le categorie da vaccinare. Io credo che questa è una responsabilità politica. Restrizioni sì, ma fino a un certo punto, dice il sindaco, che per Pasquetta non se l'è sentita di vietare anche la classica bracciata. Guardate, stiamo già in piena sofferenza da ogni punto di vista. Psicologica, sanitaria, sociale, economica. Poi ci potete mangiare, manca a pastire, il casadino. E fare laddove possibile, magari su un terrazzo, una abbracciata. Consentitemelo di dire, non me la sento in questo momento, di essere un talebano del divino. Abbiamo argomento settimana caldissima sul fronte sociale in Campania. Mercoledì a Napoli la protesta di Confesercenti che porterà in piazza 15 croci, una per ogni settore in crisi e consegnerà simbolicamente le licenze al capo dello Stato Mattarella. Sentiamo Lanzilli. 15 croci, una per ogni comparto messo in ginocchio dalla pandemia, ma anche da risposte inadeguate da parte delle istituzioni. È l'iniziativa programmata da Confesercenti Campania che mercoledì ha organizzato una protesta davanti alla prefettura di Napoli e nelle piazze degli altri capoluoghi. Dal turismo alla ristorazione, dagli albergatori al trasporto, ma anche mercatali, mondo dello spettacolo e tanti altri. L'obiettivo, ha sottolineato 696 TV, il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, è portare il grido di dolore delle imprese al presidente della Repubblica. Confesercenti chiederà al capo dello Stato di fermare questa tragedia. Abbiamo bisogno che le imprese possano avere ristori che possono riaprire le loro attività e ci dicessero in che modo dobbiamo riaprire le nostre attività e quali tasse vorrebbero che noi pagassimo. Per la guida di Confesercenti, le risposte dello Stato sono state inadeguate e insufficienti, costringendo tantissimi imprenditori a fare i conti con una crisi mai vista prima. Confesercenti si è rivolto direttamente al capo dello Stato, quindi a Mattarella abbiamo chiesto al presidente di intervenire, perché sono ormai troppi i giorni delle imprese che sono chiuse e sono troppe le difficoltà degli imprenditori. Gli imprenditori non hanno più soldi per poter pagare i fitti, non hanno più soldi per poter pagare le utenze. Molti imprenditori si sono dovuti far staccare le utenze, quindi la mortificazione nella mortificazione, perché dovevano scegliere se comprare il latte per i fighi o pagare le utenze. La cronaca adesso, la tragedia di San Vittore, domani i funerali delle quattro vittime dell'incidente di Pasqua a Mignano-Montelungo, in provincia di Caserta, straziata dal dolore. Il sindaco proclama il lutto cittadino. Rossella Strianese. Di sequestrate le salme sono stati fissati per martedì 6 aprile i funerali delle quattro vittime dell'incidente stradale che si è verificato nella notte di sabato santo a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Quattro vittime, di cui tre giovanissimi, tutti dello stesso paese, Mignano-Montelungo, in provincia di Caserta. La comunità è letteralmente stravolta dal dolore e divisa in due. Presso la chiesa dell'Immacolata Concezione si terranno le sequie del 52enne Claudio Amato, che viaggiava sulla Fiat 16. Presso la chiesa di Santa Maria Grande, invece, l'estremo saluto ai tre ragazzi, tutti tra i 19 e i 20 anni, Luigi Francese, Matteo Simone e Carlo Romanelli. Uno dei giovani stava facendo una storia su Instagram pochi istanti prima dell'impatto. Il video è stato visto da molti amici che in quel momento hanno lanciato l'allarme. I cellulari dei ragazzi sono stati sequestrati dai carabinieri che stanno indagando per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. Quello che è certo è che una delle due auto ha invaso la corsia opposta, ma non sono ancora chiare le cause. Il sindaco Antonio Verdone è affranto e parla di una tragedia immane. Non immaginavo mai che potesse essere una tragedia così grande che avevano in molto quattro nostri figli, tutti insieme. Il paese è sotto shock, siamo rimasti veramente una tragedia dalla quale difficilmente ci riprenderemo. Sono tre ragazzi giovanissimi e un padre di famiglia, un operaio di 52 anni. Siamo tutti costennati. Faremo la messa molto pagata, senza canti, o spendo le campane. Oggi le campane a festa non hanno suonato. Benevento disposta all'autopsia per il giovane trovato senza vita questa mattina in una scala di emergenza di un palazzo nel centro città. Non escluso che il 24enne possa essere caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Sentiamo Fallarino. Sarà l'autopsia a chiarire la dinamica e le cause della morte del 24enne di Benevento trovato senza vita questa mattina alla base di una scala antingendio. La macabra scoperta è stata fatta da un residente mentre passeggiava con il suo cane. Ha notato il corpo del giovane alla base della scala di emergenza di un palazzo di quattro piani tra via dei Mulini e via delle Puglie. Uno stabile che in passato aveva ospitato anche alcuni locali dell'Università del Sannio tra i quali la foresteria per gli studenti. Inutili soccorsi per il 24enne è morto probabilmente nella notte. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Benevento che hanno effettuato i rilievi. Su disposizione del magistrato al termine dei rilievi la salma del 24enne è stata poi trasferita all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento. Nelle prossime ore sarà anche seguito l'esame otoptico. Il giovane si era allontanato da casa da alcune ore e per questi familiari avevano informato dell'accaduto proprio i carabinieri della stazione del capoluogo Sannita. Torniamo sul Covid e andiamo nei territori. In Irpinia i sindaci si ribellano e tengono chiuse le scuole. A Serino, Santa Lucia di Serino e Montemiletto niente lezioni in presenza. Intanto è stata una Pasqua tragica con ben sei decessi. Simonetta Gieppariello. Pasqua tragica in Irpinia dove in poche ore sono state sei le vittime del coronavirus e 50 nuovi contagi. A perdere la vita nelle aree Covid del Moscati un sessantenne di Atripalda e Maria Felicia Cioppa 88 anni di Avellino moglie dell'ex giudice e già vicesindaco della città Gabriele Meoli. Mentre aveva solo 49 anni Michele De Stefano imprenditore di Montoro stroncato dal Covid in pochi giorni. Sempre al Moscati ieri sono morti anche una donna di 74 anni di Lauro un 63enne di Montefalsione e un uomo di 68 anni di Serino Carmine Vistocco fratello di Antonio morto solo pochi giorni prima stroncato anche lui dal Covid. Sette le vittime nel comune guidato da Vito Pelosi che tiene chiuse le scuole per l'allerta contagi. Stessa scelta anche per i sindaci di Avella Santa Lucia di Serino e Montemiletto mentre le scuole saranno aperte per gli alunni fino alla prima media ad Avellino Montoro Baiano Sperone e negli altri comuni. Domani intanto scendono in piazza i genitori Sidad l'appuntamento L11 a Piazza Libertà nei pressi del Palazzo della Provincia e mercoledì scendono in strada ad Avellino i referenti dell'Associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti con un sit-in di protesta davanti alla Prefettura e verrà consegnato al Prefetto Spena un documento con delle proposte per far ripartire le aziende. E sempre domani rivoluzione vaccini in città apre a in onde ambulanti il drive-thru nella caserma Berardi 5.000 le persone da vaccinare nella struttura di Viale Italia. Il lunedì dell'Angelo non ferma la campagna vaccinale a Salerno pazienti in fila negli ospedali e anche davanti al Teatro Augusteo il servizio. Una Pasquetta diversa da tutti gli altri anni per alcuni trascorsa in fila per il vaccino non solo nei punti Asl dislocati negli ospedali di Nocere Inferiore Scafati e Battipaglia pazienti in fila anche davanti al Teatro Augusteo di Salerno dove ad attendere anziani ultraottantenne e fragili c'erano oltre al personale Asl anche i volontari della protezione civile ma la campagna non decolla soprattutto per quanto riguarda i medici di medicina generale come ha sottolineato a 696 TV il segretario provinciale Elio Giusto La regione non ci mette nelle condizioni di registrare il paziente che ha effettuato la vaccinazione né di entrare in questo portale al di là di non abbiamo ancora i vaccini che ci verranno probabilmente consegnati subito o dopo molti medici sono ancora in attesa delle credenziali per registrare questi pazienti fragili Anche a Pasqua e Pasquetta intanto reparti Covid pieni e personale sanitario in sofferenza ma a tenere banco è ancora la polemica per i tavoli del picnic abusivo sul lungomare di minori portati via dal sindaco Andrea Reale che è tornato così sull'argomento I signori del lungomare e noi vogliamo la stessa cosa riaprire è il metodo che è diametralmente opposto noi lo vogliamo fare nelle regole Sulla vicenda è intervenuto anche Luigi De Magistris che alla 7 ha detto non è il mio modo di fare il sindaco ma non giudico perché è anche vero che tutti i sindaci sono in difficoltà le parole del primo cittadino di Napoli che ha denunciato come i comuni siano stati lasciati soli a fronteggiare la pandemia nel Sannio boom di ricoveri al Sampio dove nelle ultime ore è morto un 57enne di Cerreto Sannita medici di base volontari al centro vaccinale di via Minghetti e per le somministrazioni a domicilio vediamo 9 ricoveri in più e un decesso questo è il bilancio non certo rossio della giornata di Pasquetta nel Sannio per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Covid a perdere la vita un 57enne di Cerreto Sannita ricoverato in terapia subintensiva da alcuni giorni si tratta della 267esima vittima all'interno dei reparti Covid del padiglione Santa Teresa sono 94 ore elette occupate al Sampio di Benevento 22 le persone purtroppo in gravi condizioni intanto da questa mattina medici di base volontari in campo per aiutare i colleghi ASL del centro vaccinale di via Minghetti e per somministrare le dosi ai pazienti fragili a domicilio diciamo che la medicina di famiglia è in prima linea oggi è un giorno particolare un giorno di Pasquetta però generalmente questo giorno si trascorre in famiglia ma le nostre famiglie stanno qua quindi i nostri pazienti stanno qua e abbiamo sentito il dovere di venire a dare supporto morale ai nostri pazienti che oggi il giorno di Pasquetta si vaccinano siamo qua per dare un aiuto ai colleghi che oggi sono di turno nel giorno di Pasquetta i professionisti della medicina generale hanno effettuato le somministrazioni delle dosi a domicilio ai propri pazienti insieme a dei colleghi andiamo a fare la vaccinazione a casa cioè le persone che non si possono muovere quindi ci siamo prestati per questo tipo di approccio al vaccino delle persone non di ambulanti domani intanto a Benevento prevista la riapertura del cimitero della villa comunale dei parchi pubblici cittadini nel rispetto delle norme covid 400 pasti donati alle famiglie in difficoltà è l'iniziativa messa in campo nel giorno di Pasquetta dall'ordine dei medici della provincia di Salerno a preparare confezionare e distribuire le lunch bag gli studenti dell'istituto alberghiero virtuoso sentiamo Sarabotte prosegue anche nel giorno del lunedì dell'angelo dopo il sabato santo e pasqua l'iniziativa solidale dell'ordine dei medici della provincia di Salerno in campo per mostrare la propria vicinanza alle famiglie del territorio in difficoltà donando 400 pasti è un'iniziativa di cui in questo momento si avverte pienamente l'esigenza e anche diciamo un atto di umanità nei confronti di chi ha meno possibilità di noi un'azione che in un qualche modo si conica con quello del complessivo della salute del mantenimento della salute a preparare le lunch bag gli studenti dell'istituto alberghiero Roberto Virtuoso donate e distribuite in piazza Ferrovia e via Pertini sabato circa 250 e oggi più o meno siamo nello stesso ordine numericamente parlando un lavoro in sinergia che ha visto coinvolti tanti ragazzi questa iniziativa è stata possibile grazie al grande lavoro di team fatto dai docenti insieme ai ragazzi che sono stati meravigliosi che si sono offerti volontari per la preparazione e la distribuzione dei pasti i ragazzi sono molto emozionati le chiamate ieri sera sono state tante per partecipare e stare in piazza con noi è un'iniziativa che li convolge già da molto questa è la piazza che ci ha visto già presenti ogni giovedì nella distribuzione alle persone di un pasto caldo anche con il freddo partecipava sempre tutta la classe ci fermiamo qui per stasera grazie in regia a Michele Urciuolo vi lascio alle previsioni del tempo e a una serata come al solito ricca di tanto calcio su 8 Channel arrivederci a Michele Urciuolo a Michele Urciu 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 a Michele Urciu